altro che uno spettacolo di Halloween, perché noi siamo sempre molto avanti i ragazzi quindi sono molto emozionati, quindi io farei un grande applauso venite pure in pista, raggiungete la pista, non so, ci sono, ok, iniziamo da lì chiederei solo gentilmente di non passare in mezzo mentre c'è lo spettacolo ce lo godiamo tutto, siamo pronti, iniziamo, vai! Voi! Sì! 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione